Commenti molto interessanti di Kenny Aman per i suoi genitori. Il famoso attore Kenny Aman è diventato un marchio e continuerà a stupire milioni di fan per molti anni a venire. I suoi fan sono curiosi di ogni aspetto di lui. In particolare, sono molte le persone che sono curiose degli anni dell'infanzia dell'attore e di quello che hanno passato in famiglia. Kenny Aman ha fornito alcuni dettagli al riguardo nelle sue interviste. Uno di questi dettagli riguarda come ha trascorso la sua infanzia. Kenny Aman era solito trascorrere i mesi estivi al mare a Bodrum. Durante i mesi invernali, era a casa loro a Istanbul e amava giocare a calcio. Kenny Aman, che ha rotto i mobili della casa, ha sentito molti rimproveri da sua madre. I suoi genitori hanno divorziato quando aveva 5 anni. Tuttavia, non hanno mai perso il loro amore da Kenny Aman. Il duo, che si è riunito per il figlio, ha disegnato una foto di famiglia insieme durante le vacanze. Kenny Aman dice. Non ho mai sentito la mancanza di amore tra madre e padre. La madre di Kenny Aman è una persona molto disciplinata. Galdem Aman ha una natura ordinata e prescrittiva. Grazie a sua madre, Kenny Aman è diventato anche un bravo studente ed è cresciuto con le regole. Sua madre gestisce ancora sia i viaggi di suo figlio che la sua proprietà. Anche l'amore del padre di Kenny Aman è diverso, dicendo. Sarei finito se non fosse per mia madre. Gouve Nyaman era un doganiere. Era un amante della strada e amava l'intrattenimento. Kenny Aman le somigliava perché viveva con sua madre.